In questo video tutorial vedremo come si assegnano i materiali in SketchUp. Disegniamo un oggetto. Lo strumento per assegnare i materiali è il Paint Bucket. Quando si clicca sull'icona si apre automaticamente una palette, si chiama una palette di materiali che è anche apribile dal menu Window, che ha una serie di materiali suddivisi per categorie. Se vado a categoria legno posso andare a selezionare un materiale e con un semplice clic lo posso assegnare a una superficie. Se lo voglio cambiare clicco su un altro materiale e riclicco sulla superficie. Se l'oggetto a cui voglio assegnare il materiale fosse un gruppo, a questo punto il clic che vado a fare sul gruppo assegna automaticamente a tutte le superfici interne lo stesso materiale. Solamente attraverso una editazione del gruppo, cioè doppio clic, potrò selezionare singolarmente le superfici e quindi cambiare alcuni materiali. A questo punto, quando vado a selezionare un altro materiale e faccio un clic dall'esterno di questo volume che è stato raggruppato, le due superfici che prima erano state editate all'interno rimangono con lo stesso materiale di prima. Tutte le altre sono cambiate. Per modificare un materiale già presente in scena su diverse superfici posso utilizzare un tasto che velocizza quest'operazione. Ossia, una volta scelto un materiale differente vado a fare un clic su una superficie qualsiasi fra queste quattro, tenendo premuto lo Shift. Lo Shift mi permette di cambiare un materiale a tutte le superfici che prima avevano lo stesso materiale. Se tengo premuto il Ctrl mentre clicco su questa superficie, a questo punto ha cambiato il materiale alle superfici che prima avevano lo stesso materiale e che erano anche contigue, adiacenti. Quindi solo queste prime due e non queste altre due. Se tengo premuto mentre faccio il clic sia il Ctrl che lo Shift, a questo punto le superfici che cambieranno sono queste tre. Quelle che avevano prima lo stesso materiale non tutte sono adiacenti, ma fanno parte dello stesso oggetto. I materiali che ho assegnato alle superfici possono essere editati. Se clicco su questa icona, in Model, cioè vado a vedere la cartella che raggruppa tutti i materiali presenti nell'area di disegno e assegnate le superfici, posso andare a selezionare un materiale, ad esempio questo, e andando a cliccare nella scheda Edit, Modifica, posso andare a modificare queste proprietà, il colore, la texture e l'opacità. Le modifiche che apporterò si vedranno automaticamente sulla superficie a cui era stato assegnato questo materiale. Se voglio creare un nuovo materiale, partendo da un materiale di base di SketchUp, posso andare a selezionare questo materiale, cliccare su questa icona, e a questo punto la scheda Edit, cioè di Modifica, mi verrà aperta in una finestra a parte, dove innanzitutto posso dare un nome diverso al materiale e posso cambiare queste caratteristiche. A questo punto nell'elenco ci sarà questo mio nuovo materiale che posso andare ad assegnare a una superficie presente in scena.